Ha ricevuto il torrone in Urzia, il rosone di Colle Maggio e il vigno Stefania Pepe, simboli della città dell'Aquila i primi e delle eccellenze enogastronomiche regionali il secondo. Sono i doni per Silvio Berlusconi, per la prima volta all'Aquila dopo la fine dell'emergenza post-sisma. Il leader di Forza Italia è tornato in città dopo tanti anni per sostenere la candidatura di Marco Marzilio per le prossime regionali, a significare anche quanto conti questa competizione elettorale per Forza Italia, per il centro-destra, ma non solo ovviamente, posti in piedi all'auditorium del Lance e tanti aquilani anche fuori ad accoglierlo. A Berlusconi in molti riconoscono infatti l'impegno fattivo per la costruzione degli alloggi del progetto case che hanno comunque consentito a tutti gli sfollati di avere subito un tetto nel dopo-sisma. Il Cavaliere si è detto commosso nel ricordare i suoi giorni all'Aquila, anche perché quest'anno cade il decennale del terremoto. Berlusconi ha ricordato tutto l'impegno messo in campo in quei giorni assieme a Guido Pertolaso. E poi anche i 25 anni di Forza Italia da festeggiare all'Aquila. Tanti i temi trattati dal Cavaliere, sia nazionale che ovviamente legati alle elezioni in Abruzzo. Mi auguro che questo governo cada, ha detto, me lo auguro ogni giorno, vedo un pericolo come nel 1994 o forse più grave. Questi grillini, ha detto, hanno le idee dei comunisti di allora, ma non da salotto, da strada. Ma rispetto alla sinistra di allora non hanno nessuna competenza, ha chiuso Berlusconi, che naturalmente nel corso del suo intervento si è lasciato andare a molte battute. Devo dire che sono commosso questa mattina, lo dirò adesso a coloro che mi ascolteranno. E comunque non sono più ritornato all'Aquila da allora per delle ragioni precise che fra poco ricorderò. Ho dentro di me un ricordo commovente che non finirà mai di quei giorni, dei giorni di ciò che è successo, del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa e che mi accolsero qui con una grande speranza che per fortuna io seppi far avverare con la costruzione di case forti e resistenti al terremoto, confortevoli, con tutti gli arredi necessari per il traccio, io ti ho studiuto bene e noi queste case le sappiamo costruire e consegnare in meno di cinque mesi.